nelle scorse ore alex belli parlando con solei sorge e davide silvestri si è lasciato andare ad una frase particolarmente infelice rivolta a manuel bortuzzo sul web è subito nata una polemica infuocata si sono tutti scagliati contro alex chiedendone persino la squalifica ma qual è stata la frase che ha scatenato questa reazione alex belli era in giardino insieme a solei e davide i tre stavano facendo battute e parlavano delle probabili eliminazioni del reality quando ad un tratto alex pronuncia la seguente frase a 1 a 1 cadono solei commenta con silvestri per ultimo e alex replica no ultimo rimane manuel perché non può cadere aggiungendo la sua inconfondibile risata anche solei sorge si lascia andare ad una risata mentre davide silvestri resta in silenzio sulla vicenda sono intervenuti non solo i numerosissimi sostenitori di manuel ma anche lo stesso staff che gestisce i profili del ragazzo che ha condiviso un duro messaggio manuel magari non se la prenderà ma riteniamo giusto segnalare l'accaduto in quanto la battuta è stata fatta alle sue spalle e soprattutto in difesa delle tantissime persone che ci stanno scrivendo in queste ore e che si sono sentite toccate e offese da questa mancanza di sensibilità secondo voi è da squalifica ricordatevi di lasciare un pollice in su per noi è importante grazie per restare aggiornato iscriviti al canale e attiva la campanella